Cresce l'attesa in Lega Pro per la composizione dei Gironi. Alla finestra c'è il Teramo, l'unica abruzzese rimasta nella terza serie nazionale dopo la retrocessione dell'Aquila e la mancata iscrizione della Virtus Lanciano. Domani sarà a tal proposito una giornata da circoletto rosso. Prima il Consiglio federale darà i verdetti definitivi sui ripescaggi e una volta conosciuto l'organico delle 60 squadre si provvederà alla composizione dei Gironi. Della lista di pretendenti dovrebbero restare escluse dal ripescaggio, Propatria, Lecco, Rieti e quasi certamente Cavese, dentro tutte le altre. Le previsioni dicono che il Teramo farà parte del Girone B anche quest'anno ma la composizione del raggruppamento sarà diversa visto che Girone A e B prenderanno il centro nord che sarà diviso a metà, la parte ovest nel Girone A, quella est nel Girone B. Questo comporterebbe l'addio alle tante trasferte toscane fatte in questi anni dei Biancorossi ma anche l'inserimento nel Girone di nobili decadute che punteranno al salto di categoria come il Parma di Apolloni, il Venezia di Pippo Inzaghi, la Reggiana di Leonardo Colucci, per non parlare di Padova, Bassano e Pordenone, tutte iperattrezzate. E poi le quattro marchigiane con i sempre sentiti confronti con Ancone e San Benedettese. In attesa che domani pomeriggio il direttivo di Lega Pro ufficializzi i raggruppamenti per il Teramo questo è un mercoledì di ripresa degli allenamenti dopo l'eliminazione dalla Team Cup ad opera dell'Alessandria e i due giorni di riposo concessi dal tecnico Lamberto Zauli. Biancorossi ha lavoro quasi al completo con la sola assenza in gruppo del centrocampista Ilari le cui condizioni migliorano e presto potrebbe tornare in gruppo. Intanto sono in arrivo ulteriori test. Domani alle 18 al Bonolis con ingresso libero contro l'Alba Adriatica con pagine di eccellenza. Poi domenica pomeriggio contro il Pineto, squadra neopromossa in Serie D. La dirigenza del Diavolo e il tecnico Zauli cercheranno di capire se il Teramo è ok così o se c'è bisogno di qualche altro innesto in attesa che venga scritta la parola definitiva sul prolungamento del contratto del centrocampista Stefano Amadio un rinnovo annunciato dieci giorni fa dal presidente Campitelli ma che va ancora formalizzato.